Ci serve qualcuno che ci porti su quest'isola Cui? È la zona più pericolosa dell'oceano, non ci sono isole laggiù Oh, bellezza, che problema c'è? Andiamo Oh, è il mio sistema d'allarme È più sicuro il Titanic Qualche sera fa da queste coordinate è partito un segnale radio Potrebbe essere l'isola misteriosa descritta da Jules Verne E vuoi andare dall'altra parte del mondo a incontrare un pazzoide che sta armiando? Sto cominciando con una radio? Non è un pazzoide, è mio nonno Ha cercato quest'isola misteriosa per tutta la vita Aiuto Dove siamo? Ho trovato la via per lasciare la spiaggia Signore e signori, ecco a voi L'isola misteriosa Se questo è il paradiso, io ci rimango Estrabilianti Allora, volete restarvene là? Nonno! Chi è pronto per l'avventura? E quello che posto è? Atlantide Una montagna d'oro Non ci credo Tra due settimane saremo sulla copertina di Time Che meraviglia Ti avverto però Sull'isola ci sono una giungla tenebrosa e creature terrificanti Mi sento castrato Che cos'era? L'isola sta per sprofondare Quanto tempo ci resta? Due, tre ore Sono uova, non rocce Fermi Le lucertole hanno un olfatto eccezionale Se verremo sbranati Correte! Me la prenderò con te Come far colgo? L'attenzione di una donna è una delle cose più difficili da ottenere Devi imparare a fare così Che cos'è? Il ritmo pettorale dell'amore Coraggio, tirami una bella vacca Boom!